Buongiorno a tutti, siamo a Beer & Food Attraction 2024, siamo in compagnia di Viviana Manera, Marketing Director di Birra Peroni. Senta, ci puoi parlare un po' delle novità che presentate quest'anno? Oggi presentiamo Raffo Lavorazione Grezza, questa è la grande novità del 2024 perché il 2024 sarà l'anno di Raffo. Abbiamo già cominciato lo scorso anno con il rilancio di Raffo Ricetta Originale che dalla Puglia è andata alla conquista dell'Italia. Infatti Raffo è il nostro brand pugliese dal 1919 che nel corso del 2023 e poi nel 2024 lanceremo in tutta Italia. Raffo Lavorazione Grezza è appunto la grande novità, abbiamo voluto raccogliere in una bottiglietta tutto lo spirito, l'autenticità e la positività della Puglia. È una birra fatta con cereali non raffinati di Puglia con un gusto molto morbido, è una birra non filtrata ma fresca con un aroma maltato che si inserisce nel trend sempre crescente di consumatori che cercano prodotti crafty di qualità ma anche dal consumo più facile da bere quotidianamente. In merito appunto a Raffo a queste importantissime novità, quali sono i primi feedback del pubblico già nella giornata di ieri che è stato appunto il primo giorno? Siamo molto soddisfatti perché i feedback sono estremamente positivi proprio perché questa nonostante sia una birra non filtrata, l'utilizzo di cereali non raffinati, non maltati le conferisce un gusto molto morbido, fresco e quindi più facile da bere. Quindi rispetto a quello che c'è già sul mercato è sicuramente un gusto più facile e in qualche modo più distintivo. Perfetto, invece in merito appunto alle prospettive future, questo nuovo anno che sta iniziando, di che cosa ci vuole parlare? Allora sicuramente uno dei trend crescenti come dicevo è quello delle birre crafty anche perché i consumatori sono sempre più attenti alla qualità della birra e c'è overall una cultura crescente sul mondo della birra. Poi sicuramente l'altro grande trend è quello un po' del well-being e quindi i consumatori ricercano prodotti a zero alcol o con basso contenuto di alcol. In questo contesto noi abbiamo lanciato già lo scorso anno Peroni Nastro Azzurro stile Capri, che è la nostra easy drinking perfetta per l'aperitivo nelle spiagge italiane e poi stiamo investendo molto su Peroni Nastro Azzurro 00 perché vogliamo offrire a tutti la possibilità di godersi una birra anche a chi non può o non vuole consumare alcol. Siamo in compagnia di Andrea Tortella, direttore vendita di Birra Peroni. Le volevo chiedere, mi parli un po' del mondo dell'Oreca, quanto è importante e che cosa ci vuole dire? Allora l'Oreca per noi rimane assolutamente una priorità, sicuramente per un punto di vista di dimensione oggi sta diventando sostanzialmente la metà del nostro business e quindi solo per un tema di dimensione è fondamentale per noi ma anche un ruolo strategico assolutamente fondamentale in quanto nell'Oreca si costruiscono le marche, si costruiscono le occasioni di consumo e credo sia strategico per noi ma in generale per tutte le aziende di beverage. Il nostro contributo al mondo Oreca e alla categoria birra nel mondo Oreca passa attraverso la premiumizzazione perché siamo convinti che questa sia la leva per tornare a far crescere i volumi e il valore della categoria. Parlando di premiumizzazione siamo focalizzati su due grandissime aree, una è sicuramente il portafoglio per poter offrire a clienti, punti vendita e consumatori un'offerta quanto più ampia possibile e quanto più premium possibile anche per rispondere a quelle che sono le esigenze dei consumatori italiani che cercano qualità e sono anche incuriosite dall'innovazione. E Raffo Lavorazione Grezza che presentiamo oggi va assolutamente in quella direzione. Parlando di premiumizzazione l'esperienza nel mondo Oreca deve essere premium un tanto quanto e noi la intercettiamo cercando di lavorare costantemente sul nostro livello di servizio. Noi verso i nostri clienti e partner distributori, verso i punti vendita e verso il consumatore. E tutti gli sforzi che stiamo facendo e che continueremo a fare vanno in questa direzione per essere riconosciuti come un partner affidabile e sostenibile per i nostri clienti. In questa direzione va anche un'iniziativa che abbiamo lanciato l'anno scorso che è il portale Biraperoni per te e che continueremo a sviluppare nei prossimi anni che ha l'obiettivo tramite la tecnologia e la digitalizzazione di connettere in maniera più efficace e più veloce noi e l'intera filiera.